3, 2, 1, via! Andiamo! Uuuuh, mi ha squirato! Maledetto! Sei solo col cecchino? Sì! È difficile, eh! 10 di vita! Non mi ha reso la me, brutto maledetto! Nuova moneta di gioco su Fortnite, siamo nella parco giochi e quest'oggi creiamo una Detran. Idea presa da Gongs? Come funziona? Ve lo spieghiamo subito, subito, subito. Allora, praticamente funziona così. Dobbiamo creare una piattaforma gigante, piena di ostacoli, di muri che possono parare, eccetera, eccetera. Dopodiché, due correranno in quella piattaforma, uno starà in un'altra piattaforma e con vari tipi di armi dovrà riuscire ad ammazzare gli altri due che correranno avanti e indietro in questa piattaforma. Utilizzeremo fucile a cecchino, utilizzeremo granate d'impulso, utilizzeremo granate appiccicose, faremo diversi round con varie armi e sarà pericolificio. Come le classiche Detran che abbiamo sempre fatto su Gmod e GTA, qualche consolino se le ricorderà, quindi proprio classicissime. Assolutamente sì. Però la cosa particolare è che siamo su Fortnite, con le armi di Fortnite, con le costruzioni di Fortnite, eccetera, eccetera. Che comunque si distruggono anche se fai granate, se lanci granate, quindi vanno ad ostacolare parecchio. Ad esempio, per fare un piccolo esempio, noi nella piattaforma dove si corre, creeremo delle finestre, creeremo dei piccoli ostacoli, creeremo dei muri, creeremo dei, come si chiamano, degli archi. Quindi per sparare, ad esempio, quel cecchino non sarà semplice. Bisognerà beccare nel punto giusto, al momento giusto, insomma. Allora, io per ora, andando in giro, ho trovato delle granate in pulso, che secondo me possono essere carine da utilizzare. Della C4 un cecchino. Quale cecchino? Quella ripetizione. Ok, io invece ho il caccia, appena trovato. Non male, non male. Già, 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 sono molto felice. Ovviamente le armi ce le possiamo tranquillamente dare tra di noi, quindi non c'è bisogno di trovarne una testa. Più ne abbiamo, più fa comodo, però sono felicissimo di aver trovato proprio questo, perché con le altre armi, con gli altri cecchini, sarebbe andata peggio per me. Invece col caccia sono felicissimo. Eh, lo sappiamo tutti. Ok, allora, ma iniziamo a billare, Ferre? Sì, mi sa proprio di sì. Vero? Secondo me le dobbiamo iniziare subito. Qua è pieno di lama, comunque, quindi me ne approfitto e li prendo subito. Allora, anche le granate appiccicose ho trovato. Ho trovato un sacco di tipi di granate. La C4 non la usiamo. Ah no? No. Eh, però è bello. Attaccata a un player al volo. Dimmi. Allora, vediamo qua cosa c'è. Appiccicose, tantissime, granate ad impulso e poi le puzzolenti, sarebbero divertenti. Ok. Opla. Secondo me le appiccicose sono le più rare, però. Vero? Sì. Le appiccicose sono rarissime. Vediamo. Che secondo me, infatti, sarebbero difficili. Ad esempio, quelle impulso le trovate nel lama, eh. Ah, io pure. Appena trovate. Quindi ne ho tre anche io di impulso. Ne servono parecchie, però comunque ne abbiamo già abbastanza. Vabbè, dai, ci si arrangia con quello che troviamo. Esatto. Allora, qua ci sono delle ceste. Allora, come la costruiamo tutta la corsa? In legno? Eh sì, dai. Secondo me sì. Dai sì, senza stressarci troppo con i materiali. Le appiccicose lo facciamo come ultimo round. Quindi anche se puoi esplodere tutto, pazienza, perché sarà il terzo ed ultimo round. Mentre prima facciamo cecchino e appiccicose. Allora, dove lo costruiamo? Cioè, è impulso, che non fa una casino. Qui lungo, proprio fuori da Acri? Sì, 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 sì. Allora, tu crei la piattaforma dove corri o la piattaforma dove sta la persona che spara? Falla tu quella dove si corre, Stef. Al massimo ti aiuto, c'è un'idea di come farla. Ok. Cioè, come iniziamo? Facciamo due piattaforme parallele, una si corre, una si bla bla bla. Allora, il punto dove vuoi farla dov'è? Che non ti ho visto? Tipo da qui, qui lungo. Mi metti un segno dove sei? Sei dall'altra parte, Stef. Quindi se inizi da lì va comunque bene, vieni verso di me, io sono verso sud, mi pare. Ok, ma tipo facciamo qua, andiamo un bel po' in alto. No, io volevo farla, guarda, in questa direzione qua. Di così. No, girati dall'altra, fai un bel giro, di così. Dici, se vuoi di così, se andiamo in alto, ignoriamo tutto, eh. Ok, come vuoi, come vuoi. Perché non ci sono montagne alte di mezzo. Quindi guarda, cioè se io vado già tipo, mi pare a questa altezza. Sì, non esageriamo, non esageriamo ovviamente. Guarda, già così non c'è nessuna cosa che dà problemi. E quindi io a fianco faccio quella di quello che deve sparare. Quanto lontana? Secondo me, almeno cinque. Cinque. Quindi alla sesta facciamo la... Perché devi avere una bella distanza comunque, altrimenti è troppo facile. Ma non troppo, perché altrimenti non ci arrivano le cose che bisogna lanciare. Uno, due. Quindi bisogna bilanciare benissimo qua, raga, non è nulla semplice. Ti sembra un buon... Cinque inizia qui. Ma dici che è buono? Sì. O troppo vicino. Troppo vicino. Fai sette. Fai sette, fai sette, fai sette. Era un po' troppo vicino. Quindi qua è cinque, sei, sette. Facciamo qua. A livello di pista non voglio esagerare. Qui c'è la zona sicura, dove non si può essere ammazzati. Dove proprio non è corretto ammazzare. Anzi, facciamola anche più grande, va. Ok, quanto si è andato in alto? Uno, due. Ok, facciamo così. Tre, quattro e cinque. Tre, quattro e cinque. Dovremmo esserci sette. Quindi questa è la zona safe in cui quando si arriva si è salvi per un attimo, perché poi bisogna ovviamente ripartire. Mentre dall'altra parte rifacciamo appunto un'altra zona safe, ma allo stesso tempo qua iniziamo a mettere un po' di cose. Pensavo anche di mettere... È tosto da costruire, uno. Di questi, così chi deve correre deve anche pensare ogni tanto a saltare, che secondo me è carino. Ok. Vediamo. Oh, yes. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Di questa dette non se ne possono fare tantissime. Assolutamente sì. Si possono inventare percorsi incredibili. Allora, a me sembra che siamo un po' più bassi o sulla stessa altezza, perché purtroppo giocano un po' le collinette. E sei più in basso? Vado di uno più in alto? Tipo così? Così sei giusta. Così sei giusta. Ok, allora, quindi qua ci sarà, come nell'altro caso, tutta la zona. Questo non si può fare perché ci stavo provando. Sai che facciamo questo? Sì, dai. Facciamo così. Facciamo così e così. E come nell'altra zona, appunto, questa qua è la parte safe, da cui si può partire. Ok. Ok, quindi siamo coperti. Quindi abbastanza breve, no? Sì, 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 perché fai avanti e indietro poi nel caso, ho capito? Ok, ci sta. E i muri che ti devono difendere devono stare da questo lato. Allora, ci stiamo. E facciamo alcune volte, tipo un muro così. Cavolo, quelle sono le uniche che non ci servono perché sono impossibili da usare. Poi, vediamo, qua magari tipo un bel muro normale. Qua magari mettiamo tipo un portico. Facciamo tipo un doppio portico. Ok. Poi, qui rifacciamo magari un muro normale e un muro che si abbassa all'improvviso. Ok, bellina tutta questa idea. Ok. Qua di nuovo un muro così così, a media altezza. Poi facciamo di nuovo portico. Qua di nuovo uno dove si salta, secondo me, raga, serve. Quindi lo rifacciamo. Ok. Farà molto ridere sta roba. Ultimo muro che può salvare e poi qua, perché qua così c'è il momento ansia, vedete? Perché tu fai, eh, eh, quando vai, quando non vai. Ho messo anche, come nelle dettran, sai che è sempre quella sorta di balconcino? Mhm. Ovviamente lì ha anche i tasti per attivare le trappole che qui non possiamo avere, però ho fatto la stessa cosa. Così è proprio uguale anche la parte di chi deve far fuori gli altri. Ok. Allora, mi sembra che il percorso sia molto carino così, quindi secondo me ci siamo. Bisogna capire quanto materiale abbiamo, siccome è carino quello, ci sta. Eh, te l'ho detto, per farlo a mo' di cosa che stai appunto osservando e poi anche per non rischiare di cadere nella foga in cui lanci cose. Sono d'accordo. Dicevo, bisogna capire un attimino quanto siamo riusciti a racimolare di vari, delle varie granate, delle varie cose. Sì, dobbiamo fare il punto della situazione. Esatto, e dopodiché partire. E con le granate d'impulso io ho paura che ne sprecheremo tantissime. Infatti bisogna essere molto precisi perché altrimenti ce ne sono 50 per fare questa modalità. E non ho voglia di farmarne 50. Comunque secondo me questa è la distanza giusta. Non è semplice, Steph, secondo me, lanciare le granate e lanciare le cose. Non è semplice. Taglio e partiamo. Ok. Finalmente ci siamo. Io parto a sparare e saranno tre round con un fucile a cecchino. Poi un round con granate d'impulso. Un round, penso, con le puzzolenti. Insomma, ci sarà diversa roba. Nati mi sta già provocando. Come funziona? Allora dobbiamo partire lì dallo start. Arrivare fino alla fine. Quando arrivano alla fine, tornare indietro. E diciamo una sorta di mini gara a chi riesce ad ammazzare gli altri due il più in fretta possibile. Quindi all'incirca la sfida funziona così. Nati in questo momento ha pure scelto e quindi per me sarà un po' più complesso. Però pazienza. Siamo tutti e due, Steph, che ti stiamo salutando. Direi che potete partire, cari. Mi state molto antipatici. Io non ho scinti, però, è giusto così? Eh sì, non dovreste averlo entrambi, però pazienza. Anzi, Nati, fatti colpire la gamba. Vieni. Fatti colpire la gamba. Ok, dai, così va bene. Eh, va bene, dai, pazienza. Ok, tre, due, uno, via. Andiamo. Oh, mi hai squirato. Maledetto. Sei solo quel cecchino? Sì. È difficile, eh? Dieci di vita! Non mi ha reso la me, brutto maledetto! Dai, non ti ho preso! Sono andata a zigzag perché prevedeva un colpo. Ok, ok, con dieci di vita sono arrivata alla base. Nat? Uh, Nat se la sto facendo un po' più strategica. Scusa, corsa dritta. Quindi come è arrivata io devo iniziare a correre. Sì, 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 sì. Ok, andiamo, 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 andiamo. Addio! No! Ah! Ti odio! Si sta giocando a che non saltare bene, Nat. Ti vedo. Ti vedo, mascalzone. Ok, ok. Me l'aspettavo quel saltellino. Dai, non ti ho preso! Yes! È bassissimo! Yes! Ah, vabbè, prendi. Finalmente, cavolo, è difficile, eh! Chi vuole farlo di due, eh? Tanto dovete farlo entrambi. Vedete voi. Sono scasso... Boh, adesso? Dai, fai tu, fai tu, fai tu, fai tu. Così corro con Fere. Ok. Ti ho lasciato il cechino lì sopra. Io vado da Fere. Io voglio fare il cechino, Steph. Fere, devi fare tutto. Perché? E poi le granate di impulso eccetera eccetera le faccio io. Oppure vuoi fare magari un round di granate di impulso, tu? O di puzzalenti? No, secondo me è tutto difficile, non lo so. Beh, sì. Che è tutto difficile, non c'è dubbio. Dai, mi faccio un round col cechino, poi vediamo. Allora, io mi tiro questo. Ho solo un colpo. No, è vero, cavolo. Arrivo. Io i colpi li ho persi perché sono morta lì. Però aspetta, possiamo recuperare i suoi? No, ma ce li ho io, ce li ho, ce li ho. Ok, perché è qua pieno di roba? Perché così non mi prendi? Forse sei un po' troppo evidente, Steph. Non è vero, su, su. Pronto? Sì. Ok, partiamo. Devi dare in via? No, no. Via. Porca miseria. Io voglio giocarmela un po' più d'astuzia. Farò paura. Ah, mi ha già preso. Io sono scarso. Boom. Ma dai! Ma dai, in tre hit mi ha preso. In tre hit me ne ha dato due. Oh, aiuto, Steph. Forse sei salvata per ora. Ora ti prende. Non ti ha preso? No. Ok. Zig zago. Salto e zig zago. Poi dopo un po' non puoi più saltare, quindi è disastro. Forse sopravvive un sacco questa roba. Esperienza con tutto. Aspetta che qua ripariamo. Esperienza con tutte le dettran, Steph. Vai, vai, vai. Ah, dieci di vita. Qua è difficile perché sei scopertissimo. Ora parte l'ansia. Oh. Attenzione. No, no, no. Sempre qua ci muoio. Cioè, che prima sono morta qui. Ma che cavolo? Il mio punto della morte. Mi dispiace. È troppo divertente sta roba. Tantissimo. Ok, riprendo tutti i miei materiali e tutte le cose utili. Queste ci serviranno, queste ci serviranno, queste ci serviranno. Ok, allora puoi usare, puoi scegliere la tua arma. Ok. Può essere cechino, può essere una granata, può essere una granata d'impulso. Scegli tu. Eh, dai, qualche tipo di granata. Ok, quale vuoi? Facciamo le puzzolenti, va. Le puzzolenti. Anche se è difficile far fuori con quelle. Quindi, non lo so. Non lo so. Quante ne ho a disposizione? Quante siamo riuscite a raccoglierne? Allora, ne abbiamo otto. No? Anzi, di più. Eh, farei nei dodici. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Nat, lei deve usare le puzzolenti. Sì, si salvi chi può. Ok. Ok. Dimmi. Ok, let's go. Devi andare a pranzo. Allora, si vede. Ho paura. Dove le dovrei tirare? No. No? Ci siamo fatti. Tenendo premuto a sinistra non lo vedi? Allora. Quante ne ha? 12. Sì, tenendo premuto sì, ok. Ok, ok, ok. Ok, ci sono, vai. Pronti? Vai. 3, 2, 1. Corri! No! Metto il pismo, metto il pismo. Qua. No, ho missato! Ok. Corri, 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 corri. Ma è difficilissimo! Stai, poi siete più veloci! Non ci arrivo lì giù! Corri, corri. Ricordati che tu le puoi mettere, aglia, anche per una cosa futura. Nel senso più avanti di dove siamo. Sì, ma si missano un botto. Eh, tirale con calma, non tirarle tutte a caso. Come stai facendo. No, beh, Steph, voi correte troppo. Allora. Ok, questa è andata. Che dolore. Cavolo! È perché il problema è che devi beccare esattamente la pietaforma. Esatto! No, Steph, sono difficilissime, te lo dico. Le ho saltate! Dai! No, non può essere così! Le ho finite, Steph, le ho finite. La tristezza, secondo me, il round con queste granate, vabbè. No, povera! Ma che triste! Pensavo sarebbe stato bello, ma è troppo fine la pista. Le ha finite. Se stai troppo tempo, fermo a mirare. Voi siete già alla fine della pista, non potevo essere così preciso, vabbè. Lo so. Allora, vai con Nat e provo con l'impulso. Ok. Vai. È difficile, perché è finissimo, ed è l'unico punto che può colpire. Certo. Però, vabbè, è giusto, dai, che sia anche difficile, che mettiamo cose diverse. Perché ti prendo legna? Vai su! Perché poi ci sono cose da riparare, Steph. Ma dai! Dalla tua parte, per sbaglio, ho picconato. Vediamo se riesco a farvi volare con l'impulso al volo, va? Andiamo. 3, 2, 1, via! Oh! Ma hai volato? No. No! Cavolo che ansia, non so quando le tirerai. Casino. Vedi, le granate sono difficilissime. Sì, 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 sono difficili. Te l'ho detto. Infatti, almeno l'impulso vanno meglio, perché ti permettono comunque una kill nel caso in cui prendi. Non capisco più dove colpisce. A un certo punto è troppo. Sì, sì, è quello che ti dice meglio con le granate, è davvero tosta. Bisogna giocarsela con più calma, Fere. Andiamo, 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 andiamo. Tirarne meno. Calcolare di più. Allora, io qua sto attenta perché ci muoio sempre. Povero Steph. Finché non vedo l'hitbox vuol dire che non prende lì. Sì. Fere! No! Cavolo! Cavolo, 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 cavolo. Ehi, certo. Sto pure ballando. L'ho visto! Ma lo faccio volare. Eccolo! Hai preso il muro? Vabbè, però c'eri. No, con le granate Steph è tosta. Uh! E sono facilmente schivabili queste. Adesso vive le difficoltà. Dobbiamo riandare? Sì, sì. Ah, ok. Vai. Uh! No! Ti ho fatto mangiare, Steph! Oh, mio Dio! Eccolo! Yeah! Finalmente! Ne ho solo due per fare, cavolo. Allora, cara mia... Ma mi hai fatto un favore? Mi hai fatto fare bella parte della pista? Cara mia... Tu contro due granate di impulso. Però non ho più Nat che mi distrae. Ma che bollo ho fatto, vero? Allora... Uh-huh. Ma ho imparato come si tirano. E quella è la parte difficile. Ok. No! Niente. Ti aspetto, qui, Steph. Ero disperato. Dov'ho correre ancora? È finita, Steph. Ho vinto io. Vai, corri, corri. Vediamo. Ok, ma mi stai tirando ste robe. Buon pranzo. Distruggi la pista? No, cavolo! Finito. Finito il divertimento. Ciao, Natta. Dopo. Non ci avevo pensato che sarebbe esploda tutta la pista una sola volta. Vabbè. Vabbè, vabbè. È ovvio che sarebbe esploda. Sì, scusa, ok. Comunque, ragazzi, è troppo divertente. Dobbiamo fare altre dettere ancora. Ci sarà il parco giochi. Ne prepariamo altre perché sono fantastiche. Ci fermiamo così. Qua sotto compariranno altri video, come sempre. Iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!